Ora spieghiamo la posizione di mezza guardia chiusa. La mezza guardia perché? Perché in mezzo alle mie gambe non c'è il suo tronco ma c'è soltanto una gamba sua. Quindi ho afferrato con le gambe una gamba sua e l'ho chiusa tra le mie gambe. In posizione di mezza guardia chiusa devo cercare prima di tutto di non farmi entrare col suo braccio sotto all'ascella perché da qua lui può controllarmi bene e lavorare. Quindi sempre il gomito attaccato al corpo per non permettere a lui di entrare sotto alla mia ascella. Ok? Se lui entra io sgrimo ed entro io. Sempre io so sotto all'ascella sua. Mai questo. Questa è pericolosa. Quindi il gomito attaccato al corpo. Ok?